Questa è il costo, ma è il dato. Io sono un sacco. Ok, ora mi fate quello. Mi fate quello percibere. È la Lui. È la Lui. Grazie. Quanti sono? Si dice. 49. Da quelli sinistri c'è la Lui. Da, sono 49. Da, sono 49. Si si no, non c'è la Lui. La Lui. In una nuovaerta con un pocciano. La nuovaerta con un pocciano. La nuovaerta con un pocciano. Grazie. 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 Grazie.